Nella suggestiva cornice della Biblioteca Chiesa Rossa, come consuetudine da ormai quattro anni, si è svolta la premiazione del concorso letterario Milano Sud. L'organizzazione del concorso dal titolo Una storia nel cassetto è stata curata dal periodico Milano Sud, con l'intento di invitare gli scrittori a mettere nero su bianco per condividere e trasmettere emozioni, informazioni e cultura. Novità di quest'anno la doppia premiazione, quella della storica giuria di Milano Sud e quella popolare dalla Biblioteca Chiesa Rossa. Dieci racconti premiati, pubblicati in un libretto dal titolo Una storia nel cassetto. Parecchi gli sponsor, tra cui il Centro Asteria, che ha partecipato all'iniziativa e contribuito alla premiazione con tre abbonamenti al proprio Cineforum.